Allora, buon pomeriggio ragazzi, sesta puntata di questa seconda edizione di Giovani Bianconeri. Parliamo oggi di un terzino sinistro italiano classe 2003 che oggi milita nella Juventus Next Gen ma che fino all'anno scorso è stato molto molto importante per il cammino della Juventus Ander 19 di Mister Bonatti. Sto parlando di Riccardo Turicchia che inizia a giocare a calcio a livello giovanile in tre club della provincia di Bologna ossia Borgo Tossignano, Casalfi Umanese e Imolese. Qui ha giocato per tre anni fino al 2014 quando si trasferisce al Cesena prima di entrare nel vivaio della Juventus nel 2018. Ad oggi si tratta di uno degli elementi più interessanti del nostro vivaio e dell'intero panorama giovanile italiano. Il 9 ottobre dello scorso anno, 2021, fa il suo esordio non ufficiale con la Juventus nella vittoria casalinga 2-1 contro l'Alessandria entrando come sostituto al minuto numero 63. Il 24 ottobre esordisce professionalmente con la Next Gen nel parigi interno per 1-1 contro la Prosesto entrando al minuto numero 84 sempre da sostituto. Trascorre la scorsa stagione 21-22 giocando per l'Under-19 segnando 8 gol in 39 partite e ha anche aiutato l'Under-19 di Mister Bonatti a raggiungere le semifinali della UEFA Yacht League come ricordato più volte, miglior piazzamento di sempre nella competizione da parte dei giovani bianconeri. L'8 novembre ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2025, quindi è fresco fresco di rinnovo. Che giocatore è? È un giocatore che ruolo naturale l'abbiamo detto, terzino sinistro. Ha giocato più volte anche come esterno sinistro, addirittura anche centrocampista centrale da mezzala. Per meglio dire, dal punto di vista tattico nasce come terzino sinistro. È il suo ruolo naturale ancora oggi, come abbiamo detto. Ma può agire anche lungo tutta la fascia, come abbiamo appena detto, e addirittura da esterno basso a destra, quindi dall'altro lato. Un vero e proprio jolly, capace di fornire il suo contributo in fase difensiva e soprattutto quando è chiamato a spingere in fase offensiva. Ha un certo vizio con il gol, come abbiamo appena visto, 8 gol in 39 partite con l'Under-19. E occhio anche alla sua fisicità, 1,80 m la sua altezza, cosa che gli consente di resistere alle cariche degli avversali quando è impiegato a macinare km su km nei contrasti fisici. Per il passaggio in prima squadra i tempi non sono ancora maturi, speriamo di vederlo qualche volta convocato dopo la pausa del Mondiale, dopo la pausa natalizia. Il suo rendimento l'ha portato ad essere eletto come miglior terzino destro del campionato primavera. Quindi quando ha giocato occasionalmente sulla destra possiamo dire che ha fatto anche delle buonissime cose, addirittura meglio di quando gioca a sinistra. Decisivo nel suo percorso di crescita il tecnico della primavera bianconera, Andrea Bonatti. Andiamo a vedere adesso le statistiche avanzate, che devo dire sono numeri abbastanza importanti. Si riferiscono al campionato primavera 2021-22. Ha giocato poi una sessantina di minuti con l'Under-23, però diciamo che le statistiche più importanti sono arrivate appunto con l'Under-19. 1.417 i minuti giocati, 11 contrasti, 1 assist, poi prima abbiamo detto 8 gol in 39 partite, 675 passaggi riusciti l'84,59%, 12 falli subiti e 8 fatti, che gli sono costati 2 cartellini gialli e 0 rossi, 68 palle perse e 89 quelle recuperate, 10 tiri il 30% solo nello specchio della porta, 127 duelli a terra vinti il 60,63% e 40 duelli aerei il 65% di questi sono stati vinti. Quindi sono numeri molto molto importanti che rispecchiano quanto detto finora, ovvero è uno dei giovani più promettenti dell'intero panorama giovanile italiano. E io credo che anche lui abbia dei numeri importanti, deve consolidare questi numeri, anche migliorarli e sicuramente ci sarà spazio per lui anche in prima squadra, anche con mister Allegri. Io credo che dei tersini buoni noi abbiamo assolutamente bisogno, anche vista l'età di qualcuno, anche vista l'età di quadrato, anche visto il fatto di Alexandro è in scadenza, Danilo non è più giovanissimo. E quindi io credo che ci voglia linfa nuova, ci vogliano ragazzi che corrono, ragazzi fisici, lui è un ragazzo che abbiamo letto usa molto il fisico, certo a livello giovanile, poi da vedere con i grandi come lo userà, però se si abitua adesso che è giovane con i grandi farà la sua bella figura secondo me e credo che bisogna dargli un'opportunità, bisogna anche concedergli il fatto di sbagliare qualora andassi in prima squadra e credo che potrà fare solo bene se confermerà questi numeri sia a livello giovanile sia in un futuro, ce lo auguriamo tutti sia per lui che per la Juventus in prima squadra. Ok, questo è il quanto e noi ci vediamo in questi giorni sempre per parlare della vicenda in casa Juve per fare degli approfondimenti e anche con Giovani Bianconeri le prossime puntate. Ciao ragazzi!